in molte opere africane in genere opere di arte primarie anche quelle realizzate per i turisti diciamo così quindi non autentiche apparentemente secondo i canoni tradizionali restano però tracce di autenticità perché quei linguaggi dell'arte sono vivi sono l'espressione di un sentimento religioso quella autenticità a mio avviso è l'archetipo che si manifesta quelle tracce bisogna saperle vedere io io sono in cerca di quelle tracce è il mio modo di fare arte sono tracce implicite non evidenti spesso è la percezione di un insieme di forme di segni a volte il modo di impostare la forma o l'esasperazione di un singolo elemento io cerco di evidenziare quelle tracce con sistemi diversi ad esempio con la preziosità dell'oro che è esso stesso un archetipo noi lo associamo distinto all'idea di bellezza e di preziosità ma non basta adorare un oggetto per renderlo bello la bellezza deve essere dentro in potenza e l'oro può servire a farle percepire con questa serie di interventi io in realtà tento di usare forma materia colore come elementi alfabetici di una specie di alfabeto metaforico e quindi la maschera realizzata per i turisti diventa una maschera dorata viene poi però scansionata trasformata in un modello per essere monumentalizzata utilizzando quindi anche la monumentalizzazione di un'opera per renderne evidente scusate l'apparente bisticcio di parole la monumentalità che è una questione di armonia e non una questione di dimensione ma trovo estremamente suggestivo anche il tentativo di digitalizzarle il tentativo di utilizzare la tecnologia per potere appunto sempre più rendere la bellezza di questi archetipi che sono evocativi che si manifestano che non hanno probabilmente nemmeno bisogno di essere spiegati in una esperienza coinvolgente di bellezza le opere che ho usato per queste animazioni nascono in legno in un luogo lontano diventano opere diverse contemporanee attraverso la doratura diventano calchi per opere che saranno realizzate in bronzo in marmo in altri materiali diventano suggestioni multimediali spero diventino testimonianza di una bellezza che può essere presente in ogni tempo in ogni luogo ovunque qualcuno di noi attraverso la bellezza voglia provare a misurarsi con il mistero grazie